Eleonora Giorgi, icona del cinema italiano, ha recentemente affrontato una delle sfide più difficili della sua vita. L'attrice, che ha compiuto 70 anni lo scorso 21 ottobre, ha rivelato la diagnosi di tumore al pancreas. Nonostante le difficoltà, Giorgi sta combattendo con determinazione questa battaglia, mostrando una straordinaria forza d'animo. In un'intervista rilasciata alla rivista Nuovo, Eleonora Giorgi ha condiviso il suo obiettivo principale in questo momento difficile, essere presente ai matrimoni dei suoi figli. Andrea, il primogenito, si sposerà in primavera, mentre Paolo, nato dalla relazione con Massimo Ciavarro, convolerà a nozze con Clizia in Corvaia il prossimo ottobre. Hanno scelto le date in accordo con i medici per permettere a Eleonora di essere al loro fianco durante questi importanti momenti. La dichiarazione di Eleonora Giorgi ha gelato tutto il pubblico e molti fan dell'attrice. La malattia ha spinto Andrea a prendere in considerazione l'idea del matrimonio, accelerando i preparativi. Eleonora Giorgi, ex moglie di Angelo Rizzoli, ha completato il sesto ciclo di chemioterapia, un trattamento che la sta mettendo a dura prova sia fisicamente che mentalmente. Tuttavia, trova la forza di andare avanti grazie al sostegno della sua famiglia e alla sua indomita grinta. La storia di Eleonora Giorgi è un esempio di coraggio e determinazione, dimostrando quanto sia speciale e resiliente questa donna. La sua lotta contro il cancro è un messaggio di speranza e forza per tutti coloro che si trovano ad affrontare sfide simili. E tu cosa ne pensi della notizia? Lascia un commento.